ciao a tutti benvenuti in gameplay è rimasto che ho cacciato un tasse del deserto mi proseguo mangio allora ti impedisce di cadere aumentare la potenza di attacchi che sono stato sterato recupero più rapido quando si vede lanciato il nale dall'attacco impedisce di dormire recupero più rapido quando vengono lanciati nale dall'attacco previene lo smirimento quando andano subito e sopra la qualità rimasta aumentato il testo dei mostri impedisce di cadere aumentare la potenza di attacchi che sono stato sterato se mai il mio papà ok allora solo una cosa devo fare scusatelo attimo eh no io siamo più copulsieri vedete qua buonasera allora buonasera la segnalità ecco ragazzi devo cacciare due lo drum e via con la caccia spettinata ok tu fa aiuto ok vediamoci ragazzi vediamo se arriva e' dai ecco qui lei è strontana ha 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 vabbè capisco ha 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 Tutti mesi furioni da te Tocco Un po' Tocco ragazzi Fantastica No, ho sbagliato cazzo Dio furbo Ok Tutti mesi coglioni No, no, cazzo Tutti mesi coglioni Dio furbo Mamma mia Mamma mia Ecco la miseria Mamma mia Tutti mesi coglioni Tutti mesi coglioni Tutti mesi coglioni Tutti mesi coglioni No, cazzo 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 dai dopo quello che volevo che subisse il danno ah ah tutte le due erano beccate tanta roba restardo cos'è tampare io volevo raccogliare l'oggetto qua però non so se ne ha forza dio furbo via 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 non importa ragazzi ok e vado cazzo l'ho tornato via scommetto che l'ho trovata adesso compare qua scommettete? meno male lo drum sono qua eh eh che cazzo non voglio appena salire eccolo qua forza ragazzi dio boia un danno di poco enorme adesso vado giù se stronza tum avuto bravo ragazzi la donna ahahahah ahahahah non te che fa tum ok se ne va e cazzo questi qua se ne va la manetta eh 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 forza ragazzi eh eh deboli so aja ahah 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 no te ha ahah 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 Ehh... Tuu... Tuu... Hehehe... Sta... Non be a part... Ehh, but that... Hehehe... Vindi, che c'è la? Hehehe... Ok... Tuu... Dear boy... Hehehe... Tum... Tum... Cazzo... Che palle... Bravi ragazzi... Dio... Surbo... Via, via, via... Freddo... Ho due di cazzi siete qua... O, Dio... O, Questa ricchezza... Che rotto mi Imazza... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ok. Qua. quindi mamma mia scusa ascolta il drone non un po' il cazzo ok e cazzo c'è andato qua io porco mi mancava anche questi coglioni che cazzo tu ti spaccami il cazzo questa motivazione muori non trovi è andato adesso muori e si attacca pure te tanto sei morto hai le ore contate hai le ore contate hai le ore contate sponzo stomach di qualità andiamo ragazzi come cazzo c'è io voglio io voglio no questa può essere un problema tu tu che cazzo è andato qua un altro eh sì ciao io forbo che palle tutto in mezzo tutto in mezzo ai coglioni crocazza che culo tu tu ahahah cosa impari dio porco apposta lo volevo sottare addosso invece mi ha anticipato lui qui d'affanculo la stalla la stalla la stalla va che ritirati dai carci dove andrà che io non ti aspetto io qua no tu tu via la curva che cosa tu è mai rapido la stessa di conglie la merda che boia Ma non ce la fai? Ponga, vai a cagare, porca troia. Ecco, ho dato quell'altro. Che due palle. Quanto ti afferiscono così, mi stanno sì coglioni, i livelli porosi. Però almeno li posso piazzare le bombe. Tanto di quelle rosse poter impugnare ne ho più. Stai male? Mi fa piacere che tu stia male. Non è la che ti aspetto qua io. Beh. E' stronzata. 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 se c'è riesce che mi facciano fuori loro, non so se hanno l'idea io cane li vedo qua fuori oh cazzo, porca di quella troia bene carico i colti ok bene pochi eccolo, ah bello bello per modo di dire ecco 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 non ti affare ma ragazzi ahahahah va beh va beh non ti ha fatto non ti ha fatto non ti ha fatto non ti ha fatto è inutile la ragazza sapesse che vuoi mannaggia mazza stronza che culo ehehehe non ce la fai non ce la fai è inutile eheheheh no te che avanti ho vinto eh non ce la fai tu eheheheh non ce la fai se no te tu non peghi avanti e cazzo non ce la fai 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 mi cazzo ma bastardi che non siete altro non per gli affari tu tu oh cazzo via porto via porto adesso ti faccio fuori vedo che non ti va neri e morì e morì oh cazzo adesso in paio la prossima volta aspetta me il cazzo non mi serve ragazzi smettete da rifiare ragazzi è quello che voglio assaggiare le balle non mi serve e 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 D'ao 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 Oh, c'è l'accia Ah, ah, ah Tan, tan Aia, cazzo Oh, cazzo Sì, ragazzi, proprio Mamma mia, oh Sì, sto cazzo Mamma mia Oh, minchia Una roba da martire, ragazzi, veramente Guarda, è incredibile Dopotutto ci sarebbe da chiedere perché Le armature della taglieria hanno un valore di difesa così basso rispetto alla spada C Questo non si capisce Dai faccio la cuna E' stranza No, ah, ah, ah Da Diofurba Magana Diofurba Anche A Soci Diofurba E A A A A A A A A vediamo se è scattato in te come vado io vediamo così sempre per l'istante sbrega la schiena, stronzo della prega, merda sono sono uno siete uno 150 Io aspetto, non c'è problema, aspetto aspetto io non c'è problema, intanto lascio che signorinello vado a dormire, ok, e a signorinello ripiazzo la bomba, e si è sbagliato, to qua, to qua, to qua, to qua, to qua. Quindi, beh, bravescime ragazzi, via porco. Bravi ragazzi. Si capisce un cazzo. Ok. Eh, date la calmata. Ok. 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 guarda già il mio vivermo, fantastico pelle di vivere della pace manto, secca metale tupacchè raccogli usiamo a scuri sangue già con la presidruzione che mi serve tu gignos fermo a 2-3, bravissimo e cavalli temperiari, bravissimo basta, sta roba, sono piena sta roba e vai beh ragazzi così è un po' il fisico qui e ci vediamo al prossimo ciao a tutti